Omar Magliona, veloce come il vento, nella sesta tappa del campionato italiano a velocità montagna di Ascoli Piceno. Il pilota portacolori della scuderia CST Sport ha ottenuto lo scorso weekend la vittoria in classe 2000 con la sua osella onda del Team Samo Competition. L'occasione era tra le più ghiotte, la 58esima Coppa Paolino Teodori con un tracciato impegnativo tutto a salite lungo più di 5000 metri. Dopo i recenti ritiri di Verzegni e Semorano, Maglione e il team erano chiamati a risalire la classifica ripristinando l'affidabilità della vettura. Scommessa vinta quasi del tutto se si escludono alcuni ricorrenti problemi in fase di cambiata. Oltre a primeggiare nella classe 2000, Maglione ha duellato ad armi pari con le migliori sports car salendo sul terzo gradino del podio nel gruppo dei prototipi e quarto nella graduatoria generale alle spalle delle sole motorizzazioni 3000. Una prova di grande decisione è quella dell'otto volte campione italiano, in grado di sfruttare tutti i cavalli della sua osella fermando i cronometri sul totale di 4 minuti e 31 secondi. Grazie al perfetto lavoro della squadra siamo riusciti a risolvere molti dei problemi che avevamo. Questa rimonta gratifica il lavoro e mi dà nuove motivazioni in vista degli impegni futuri, ha dichiarato Omar Magliona.